Wabalaba dab dab e bentornati su un nome ammazzo, bentornati nella playlist di Samuel Sterna. Oggi parliamo del numero 16, il processo Sterna che è in edicola in questi giorni con questa copertina classica e anche con la variant cover Total Black che sta benissimo accanto alla white cover del numero 7, l'agenzia. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, se non lo avete ancora fatto di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, di condividere il video con tutte le persone che hanno subito un processo e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero e in generale di Samuel Sterna, se vi sta piacendo, cosa pensate che succederà d'ora in poi, vi ricordo anche di iscrivervi agli altri miei social per rimanere un po' sintonizzati sempre su quello che faccio. Ora, bando alle ciance, il processo Stern, numero per appassionati, numero che premia finalmente chi lo ha seguito fino ad ora, un numero che fa, come dice lo stesso autore, lo stesso Fumasoli, un numero che fa un salto nel rivelarci qualcosina di più sul protagonista, qualcosina che da ben 15 numeri ci chiedevamo cosa fosse successo. Mi riferisco alla vicenda personale di Samuel Sterna che è stata semplicemente fatta annusare fino ad ora, ovvero che lui prima del numero uno ha avuto un incidente con la moglie e con la figlia, al punto che la moglie ha perso la vita e la figlia è stata portata da Samuel stesso in un orfanotrofio, perché Samuel stesso non si sente in grado di tenere al sicuro la propria figlia Lily. Finalmente qua si scopre cosa è successo, devo dire che io mi aspettavo tutt'altro, poi adesso magari ne parliamo insieme, ma parliamo un pochino anche proprio del processo Stern. Dicevo è un numero per appassionati, perché grazie a questo processo Stern, dove appunto Samuel Sterna viene messo letteralmente sul banco degli accusati, vediamo un po' una serie di vecchie glorie che abbiamo visto nei numeri scorsi. È pieno pieno di asterischi questo numero per ricordarci appunto dove abbiamo visto tutti questi testimoni che finiscono al bancone dei testimoni per accusare Samuel Stern. Tutte le persone che sono state aiutate da Samuel Stern nei numeri scorsi fanno vedere invece quanto ce l'abbiano con il nostro libraio di Edimburgo, perché hanno perso qualcosa. La moglie del protagonista del primo numero ha perso il marito, è arrabbiata con Samuel Sterna, perché le persone che si sa, lo si vede in tutte le storie varie di fantasia, le persone che hanno a che fare con il sopranaturale, poi tendono a razionalizzare quello che gli è successo e spesso a incolpare le persone che le salvano, in questo caso Samuel Stern. Quindi la moglie ha perso il marito, poi fanno vedere il povero disgraziato che aveva il demone che chiamava Ringo nel numero 3 legione, che è rimasto solo, che è un po' strano che sia al banco dei testimoni, dato che nel finale del terzo numero pare aver commesso una strage in una caffetteria, quindi in teoria dovrebbe essere in galera, però è al banco dei testimoni. Poi vediamo anche la moglie del recentissimo numero 14, se non sbaglio la signora Dambara, che era appunto la moglie dell'indemoniato con la doppia personalità, che poi è diventato un demone incarnato, tutte queste persone ce l'hanno con Samuel Stern. È bellissimo vedere questa, neanche Rogue Gallery, comunque vedere i parenti di questa Rogue Gallery, che ci siamo smazzulati fino ad ora, e vedere come effettivamente le conseguenze di quello che ha fatto Samuel nel mondo reale possono essere anche queste. Faccio spoiler, ragazzi, faccio più spoiler di quanto non ne abbia fatto adesso, quindi ok, se non l'avete letto, mi raccomando. A un certo punto però ci si rende conto che c'è qualcosa che non va. Nel momento stesso in cui entra Lily, la figlia di Samuel Stern, a processo nell'aula di tribunale, e Samuel ovviamente sbrocca, perché non gli si può toccare l'argomento, la propria famiglia, nel momento in cui entra la figlia stessa di Samuel Stern, si capisce che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa di losco quantomeno, innanzitutto anche perché a livello narrativo sarebbe davvero orribile se la figlia piccola di Samuel Stern scoprisse l'identità del proprio padre in questo modo orrendo. Mi aspetto che prima o poi sia Samuel stesso a confessare la propria identità alla figlioletta. Di certo non vorrei mai che lo scoprisse in questo modo. Ed è già da lì che io inizio un po' a storcere il naso, capire che c'è qualcosa che non va, e poco dopo scopriamo che effettivamente Samuel è ancora all'interno di un esorcismo, l'esorcismo del giudice stesso che lo sta accusando, il giudice Drummond, o Drummond, non so se pronunciarlo all'inglese o alla francese. Fondamentalmente questo giudice rappresenta un'altra delle tante figure altolocate che si sono schierate dalla parte dei demoni che ha convissuto per anni con un demone, convissuto nel senso che era a suo agio con il proprio demone interiore. Questo demone è nato da un'ombra che gli è stata generata dopo il suo primo processo in cui è stato indulgente con un ladro che poi ha commesso un omicidio, ricorda vagamente un po' le origini di Spider-Man, dello Spider-Man dei fumetti, che dopo che lascia andare un ladro e questo ladro uccide suo zio, allora Spider-Man si sente in colpa. Qui succede qualcosa di un po' diverso, nel senso che il giudice si sente in colpa al punto che smette di essere indulgente e diventa uno dei giudici più spietati che ci siano e questo perché inizia a collaborare con la sua ombra interiore, con il suo demone che diventa un demone giudice che vuole punire tutti quanti. Questo demone interiore sta morendo esattamente come sta morendo il giudice Drummond che è sul letto di morte e per qualche ragione questo demone interiore sa che là fuori c'è il libraio di Edimburgo che si occupa di ammazzare tutti i demoni e quindi vuole tendergli una trappola, vuole tendergli un'imboscata, vuole rapire questo... la mente, l'anima, la coscienza di Samuel Stern all'interno appunto del corpo del giudice che sta morendo, in modo da intrappolarlo per sempre, in modo da uccidere fondamentalmente anche Samuel Stern. E lo uccide, in senso quello che noi assistiamo internamente è appunto il processo Stern, in realtà è la coscienza di Samuel Stern che è intrappolata all'interno del giudice Drummond. Una storia che mi è piaciuta tanto, mi è piaciuto lo stile narrativo totalmente diverso dal solito, totalmente onirico, uno stile che non si era mai visto prima, in Samuel Stern. Mi piace che iniziano finalmente un pochino a sperimentare, senza fare cose troppo strane, comunque per carità. mi piace ovviamente l'omaggio al fatto che hanno citato tutti i comprimari che ci sono stati finora in Samuel Stern e mi piace finalmente che abbiano appunto parlato della vicenda di Samuel Stern. Come dicevo, qua scopriamo finalmente cosa è successo alla moglie. Pare che la moglie, io pensavo onestamente che la moglie fosse malata di qualcosa, fosse malata, ricordo delle scene in flashback in cui lei era sul letto di ospedale, se non ricordo male. Quindi non so se c'è un errore di continuity o se quello che vediamo è un ricordo un po' falsato dal demone stesso, però qui pare che la moglie stia morendo sul posto. Invece in passato, se non sbaglio, era stata anche in ospedale a parlare con Samuel, quindi non lo so se è corretta la cosa, se è un errore, se il letto di ospedale non significa per forza che avesse una malattia. Io pensavo che avesse una malattia, che avesse magari anche un demone, anche la moglie, o che avesse un demone Samuel. Invece qua sembra tutto molto più semplice. Semplicemente la moglie è stata rapita, è stata presa in ostaggio in un negozio da un criminale che Samuel ha scoperto con i suoi poteri sensoriali ha scoperto avesse un'ombra all'interno. Quello che io ho capito da questo numero è che Samuel volesse aggredire questo rapinatore dopo che aveva liberato la moglie invece di lasciarlo andare, non tanto perché è un impetuoso scozzese che voleva picchiarlo, ma perché ha visto in lui un'ombra e toccandolo voleva esorcizzarlo. Ora così facendolo è partito un colpo di pistola e la moglie è rimasta gravemente ferita. Mi sembra un po' semplice rispetto al discorso che dicevo, cioè ero convintissimo che la moglie avesse qualcosa, una malattia che l'avesse strappata a Samuel in modo molto lento e che fosse legata in qualche modo al mondo demoniaco. Invece qua sembra che è successo qualcosa di un po' più veloce. Non lo so, ditemi voi se la mia memoria mi inganna, scrivetemelo nei commenti oppure se effettivamente anche voi ricordate la moglie di Samuel sul letto di ospedale, sul letto di morte. Vabbè, a parte questo, sono comunque soddisfatto di aver scoperto finalmente qualcosina in più di Samuel, sono soddisfatto di aver scoperto qualcosina in più sul fatto che ha lasciato Lily in orfanotrofio per questo motivo, anche se già lo sapevo, cioè già si era capito che aveva lasciato Lily in orfanotrofio perché non voleva che le succedesse qualcosa a causa sua. Pensavo che centrassero molto di più i demoni, pensavo che lasciarla in un orfanotrofio circondato da suore proteggesse Lily. Pensavo che questo fosse il modo per tenerla lontana dai demoni. È un po' semplicistica questa soluzione, però ripeto, siamo nella testa del demone, quindi potrebbero essere ricordi leggermente alterati. Mi sembra strano, mi sembra più un piccolo errorino di semplicità, però voglio sperare che magari si sviluppi in modo più approfondito l'origin story di Samuel. Tutto lì. Finale fantastico, mi è piaciuto tantissimo che Samuel utilizzi diciamo la pelliccia del demone per poter uscire dal corpo del giudice e rientrare nel suo, quindi vedere questo Samuel demone mi è piaciuto molto. Piccolo escamotage per avere un mostriciattolo familiare, stata cosa molto carina. In generale un numero particolare non sarà sicuramente il mio preferito per i motivi che ho appena detto, però un numero davvero che alza un po' il livello, che ci fa approfondire questo personaggio. Spero che non sia, che non bisogna aspettare ancora molto per approfondirlo ancora un po' di più. Vediamo insieme cosa succederà in futuro. Voi fatemi sapere cosa avete preso. Avete preso la copertina normale, avete preso la cover variant, le avete presentate entrambi come ho fatto io, fatemelo sapere qui sotto in descrizione. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.